Temu, compra da miliardario. Beh, questo è il payoff o slogan che sia di Temu. Non ho resistito e l'ho provato anch'io. Vi consiglio i quattro prodotti 2023-2024 da regalare e da regalare. Proprio Temu. Lui, creato dalla PDD Holdings, che è stata tanto discussa per la sua app spyware, non spyware. Guardate, io questo non lo so, ma vi posso garantire che questi prodotti sono fantastici e li ho comprati neanche tramite l'app, ma tramite desktop, ovvero il mio Mac. Si tratta comunque di un e-commerce da 750 milioni di utenti al giorno, quindi credo che sia una realtà reale. Ecco il pacco appena consegnato, consegna in 10 giorni e siamo sotto Natale. Pacco classico cinesissimo, poste italiane con un indirizzo di spedizione che è strano, strano, guardatelo. Uno, due, tre e quattro. Più o meno intatti, ma tutti. LED che si ricarica tramite, vabbè, la scatola è rotta tramite presa USB. Questo è il suo gancino per poterla poi attaccare direttamente con clip magnetica a un eventuale armadio o cassetto. Ho scelto luce calda, sensore, di qua si ricarica, di qua si accende e si spegne. Pellicola superiore di protezione che ha protetto il LED. Wow, funziona. Beh, direi che per 3,98 euro ci sta. Due, beh, chi è che non desidera i calzini messicani? Secondo me i calzini messicani sono un bellissimo regalo, unisex, il tessuto un po' sintetico però mi pare caldo e la trama, come potete vedere, beh, è una bella trama. La trama è davvero carina e direi, per un regalo sono atomici, non me li tengo per me. 3,30 euro, i pezzi forti, lampada da tavolo ricaricabile in, la definiscono cristallo, in realtà è plastica similcristallo. Eccola qua, il suo cavo di ricarica, ovviamente sì, ricarica non ha necessità di avere batterie, bella, qui c'è la sua presa di ricarica. Come si accende? Wow, un clic e ecco le tre colorazioni della luce, più chiara, più calda e più neutra. A me piace questa, dimmerabile. Più la tengo spinta, più la luce scende o torna a essere intensa. È una copia fantastica della Big Battery della cartel, ma non ditelo nessuno. Quella costa quasi 300 euro, questa 13 euro. 4, impassisco per questa. Lampada pupassetto. Detta così non ha pil, ma fidatevi che quando la tiro fuori, ricarica, credo, USB a cavo jack. Allora, intanto pesa tanto, ditemi che non è... La lampada pupassetto seduto, ce ne sono di tante posizioni. Dorata, veramente non plastica ma metallo, dimmerabile, tre luci e assolutamente con un clic dovrebbe accendersi. Dimmerabile anch'essa e non ha bisogno di essere collegata a niente e te la porti in giro. Questa per me è veramente qualcosa di meriti. Guarda che bella. Ragazzi, non ditelo a nessuno, ma questa è la miniatura della Quibu Golden Browser, che è una delle lampade più ricercate adesso e più design insieme al cartel. Presti straeconomici e con neanche 38 euro, con sconti vari, ho fatto 4 regali importanti. A questo punto non posso dire altro che temo, non ti temo. Dai, detta questa cavolata, iscrivetevi al canale, mettetemi un mi piace. Sotto avete due link importanti. Uno, se lo cliccate avrete un buono per poter acquistare con tantissimi sconti e c'è anche il mio sconto direttamente nei codici scritto nella descrizione. Quindi utilizzateli, guardate che ci sono anche i link di questi prodotti. Basta, alla prossima e se non ci vediamo prima, buon Natale.